Sono emozioni che ti toccano, che comunque rimarranno per sempre nella storia, perché noi abbiamo fatto la storia. Ancora non riesco a realizzare questo sogno che abbiamo compiuto, però piano piano ci stiamo riuscendo. Finalmente, devo dire, tanto che l'attendevo, è stata una bella soddisfazione. Marinelli parte con la palla, fa un diverso slalom verso il centro. Io mi faccio trovare preparata molto al centro, faccio movimento ad uscire e insacco la palla a rete. È stata anche una gita, un divertimento, soprattutto perché il nostro gruppo è fantastico, è molto unito e non abbiamo differenze di età. Ci sono parecchie, 98-99, però per noi non conta, il gruppo è unito e tutto. Quando c'è da concentrarsi sulle partite ci si concentra e quando c'è da divertirsi si diverte. Sicuramente il mio prossimo obiettivo è fare parte dell'Under 19 nei campionati europei che si disputeranno a settembre in Turchia per la prima fase dell'europeo e poi, vabbè, si vedrà. Spero di diventare una calciodrice professionista.